Ed eccoci ad un nuovo aggiornamento con Muoversi in Toscana, in studio Mauro Ciutini, veicolo fermo segnalato in FIPI lì tra Ponte d'Era Est e Montopoli in Valdarno, la direzione è quella per Firenze. Un altro veicolo in difficoltà sulla Firenze Pisa, la 11 tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze, sempre in A11 c'è anche un controllo di velocità, tra Lucca e Capannori direzione Firenze. Passiamo alla A1, code per traffico intenso a Valdichiana in uscita provenendo da Firenze. E in chiusura ricordo che domani in A1 per una manifestazione sportiva c'è un divieto di uscita alla stazione di Barberino di Mugello per i mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo, orario 10, 15 e 30. Muoversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Un viaggio! Grazie a tutti!